Noi siamo i giovani Giovani più giovani Siamo l'esercito L'esercito del set Amici di noi siamo i giovani Buongiorno, benvenuti Nuova puntata, nuova settimana che abbiamo avanti Nuovi mondiali di calcio, nuovi calciatori Cristian come l'hai vista? No, nessun mondiale Per 12 anni non disputeremo un mondiale di calcio Scusate perché siamo in mezzo alla strada, come vedete la Lamezia Multiservizio Operativa al 100% ma per girare questa puntata questa mattina siamo venuti dai nostri amici l'oblò, la lavanderia di Lamezia Terme dove tutto è più pulito tutto è più brillante guardate la straordinaria bellezza della Signore che poi farà diventare anche molto belli i vostri capi da abbigliamento i vostri capi da lavare si trova in via alla Lamezia Terme un punto di riferimento vi possiamo dire come punto di riferimento nei pressi della Rio Elettronica perché è molto conosciuto alla Singer Necchi accanto alla Singer Necchi va bene quindi via via dalla Lamezia Terme troverete quindi l'oblò lavanderia di Lamezia Terme come dicevo tutto è rinnovato abbiamo tolto anche diciamo i dispositivi che avevano a che fare molti anni fa qualche anno fa con questa infezione che ci stanno attaccando addosso tutti i giorni è una cosa davvero incredibile diamo il buongiorno il buon inizio settimana alla nostra signora quindi che ci dà oggi la possibilità di andare in onda grazie a tutti voi che ci seguite grazie a coloro che il campo di abbigliamento più difficile da lavare la pelle la pelle perché non è semplice lavare la pelle però lei la pelle la rende pellicola mi è uscita così per dire super pulita eccetera eccetera va bene poi non sono quello adesso è il periodo del lavaggio dei più buoni vero? sì sì col cambio stagione col cambio stagione se lavora i più buoni eccetera eccetera quindi noi vi consigliamo proprio l'oblò alla Lamezia Terme salutiamo Vincenzo glielo facciamo anche un saluto a Vincenzo perché insomma poi la donna è come dire diciamo equivale alla lavandaia una volta si chiamavano lavandaie se lo ricorda anche adesso si chiamano lavandaie anche adesso si chiamano lavandaie lei deve calcolare caro signore che c'erano delle donne che lavavano con la cenere del braciere sulle pietre al fiume certo lo sa di questa cosa? sì sì tutti sanno la storia della donna ecco perché bisogna avere rispetto anche dell'essere femminile perché i lavori più scabrosi possiamo dire rifate voi no? è vero? ah beh sembrerebbe di sì sì ma vabbè l'uomo è uomo quindi si adatta a tutto ma la donna insomma non è semplice va bene grazie signora grazie a voi grazie a noi ma grazie a voi che ci sostenete noi dalla lavanderia oblo entriamo adesso nel centro città Lametino andiamo a sentire i ragazzi noi siamo in giovani puntate con Cristian Balaia alla console Raffaele Bellachiova naturalmente è il conduttore di questo appuntamento ancora ciao vince buona giornata e come dico sempre andiamo amici di noi siamo in giovani noi adesso siamo nel centro città Lametino dove stiamo incontrando diverse ragazze ragazzi insomma oggi è la giornata del FAI e poi vi spiegiamo che cos'è ma intanto con loro parliamo di altro parliamo di ciao come ti chiami? Gaia Maria Teresa questi sono nomi particolari Gaia invece Maria Teresa è tradizionale rispetta le caratteristiche calabresi del rinnovamento nominale se possiamo vedete Beppuccio che adesso ti metti a suonare mentre io sto registrando poi c'è un altro lì davanti il nostro ciccio non lo so perché ragazze suonano per voi però non per me allora stavo dicendo fine settimana alle ragazze come vi gestite? che fate? no solitamente a meno che non sono a Cosenza visto che faccio l'università lì o si esce lì oppure qui io studia a Pisa io studia a Pisa quindi esco lì un po' ma quando sono qua di solito ci riuniamo tutti al Banci giustamente voi avete accennato le vostre scuole no? quindi adesso vi chiedo quello che da grande insomma vorreste diventare non so più o meno allora vorrei entrare nell'insegnamento oppure fare la filologa cioè tradurre i testi antichi invece? io anche nel mondo dell'insegnamento però l'asilo oppure scuole elementari l'asilo ci vuole una gran pazienza la sì tanta pazienza invece i fidanzatini ci sono sì siete piccolini 19 anni 19 anni piccolini non direi 19 anni quindi invece loro perché sono scappate? perché sono un po' timide sì Iris Iris poi il nome fa tutto Iris e Giorgia perché sembra il titolo di una canzone Giorgia che canta Iris ragazze allora si avvicina la stagione si avvicina l'estate cosa amate di più mare e montagna? tutte e due non sapreste no io mare 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 viva l'acqua viva il mare viva l'estate ma avete più o meno ascoltato in questi giorni in questo ultimo mese più o meno non è che io voglio sapere chissà che cosa ma avete mai sentito parlare di guerra? sì purtroppo sì voi ragazze voi signorine che idea vi siete fatti io non voglio che mi spiegate i dettagli però che idea vi siete fatti che pensate di tutto questo? penso sia soltanto il capriccio di qualcuno e alla fine chi subisce le ripercussioni le ha solo il popolo e quindi si può soltanto stare dalle parti del popolo e base carina che carina che carina hai detto delle cose carine perché è una guerriera no 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 guerriera non fisicamente ma io intendo ecco una guerriera che hai tanta forza che esprimi tante energie Pasquale il nostro amico Pasquale e stavamo dicendo quindi vi siete fatte queste idee però tu non dai un buono e un cattivo no cioè ancora non sai no no non sto non ho una parte vorrei soltanto che finisse perché è carina viva la pace viva la bellezza viva perché bisogna divertirsi invece mettete nei cannoni i fiori vero? vero soprattutto dopo questa situazione che c'è stata già dopo il covid adesso anche viva che tranne una questione del genere esatto però lei ha centrato all'inizio anche dovete sapere che ha centrato anche l'argomento perché ha iniziato dicendo per i capricci dei grandi bravissima bravissima fantastico voi siete di siamo di Pianopoli sì sì ecco sono i nostri rimpettai i nostri vicini di casa lei è la quella lì la biondina la figlia del sinaco leggero eh sì cuda sì sì cuda e signorina cuda no va a mascaro lei ah lei va a mascaro giusto è la mamma è la mamma è la mamma è la mamma è giusto ma adesso c'è la sorella di esatto del sinaco non ti puoi sottrare adesso non puoi fare una cosa abbiamo la figlia del sinaco venite che la andiamo a beccare scusa che figura fai fare a tua mamma che adesso siete sulla poltrona della prima città di sulla poltrona della città di Pianopoli vero? come si chiama? diciamo il nome dai chi? Iris Iris il nome è tutto un programma Iris bellissimo tra le altre cose anche perché è molto moderno molto all'avanguardia chi preferisce come sinaco tuo zio o tua mamma? mia mamma giustamente giustamente è così però diciamo che è tutto a posto da quelle parti vero? sì sì abbastanza tu lo studi però sì sì ma studi per possiamo metterci qua perché alla statua un attimino parliamo di sindaco e cose varie c'è la statua dietro stiamo dicendo tu studi per diventare? ancora non lo so però studio giurisprudenza quindi vorrai seguire diciamo la strada che hanno intrapreso la tua famiglia sì sì quindi vorresti diventare un uomo scusa una donna di politica politica forse no però anche loro hanno fatto la stessa facoltà quindi penso qualcosa in questo modo certo certo conosco molto bene la situazione lui è Franco ciao ragazzi buona giornata cerchiamo di migliorare in questo la piana alla metina di fare qualcosa di positivo per questa città che è una buona città e anche di pianopoli la città dei nobili la città dei nobili e dici se conosciamo il sindaco di pianopoli Franco e lo conosciamo come non lo conosciamo è un nostro amico tuo zio e poi oggi c'è tua mamma vabbè ma a parte questa pubblicità la città di pianopoli stavamo dicendo che da grande vorresti fare appunto diciamo politico no però qualcosa vogliamo insegnare il magistrato vieni qua vieni qua lei suggerisce il magistrato deve fare sì perché ci avevo pensato ci avevo pensato pensando vabbè certo 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 va bene adesso si sta facendo l'estate quindi uscirai la sera sei impegnata con qualcuno no 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 poi andiamo a paruri a Barcellona sì sì adesso ah giusto adesso si va a Barcellona è vero sì per studio però sì no spieghi perché ah no per divertimento sì sì che è andata a fare una vacanza una vacanza ma perché parlate da lontano quindi andrete nella mia vita di Barcellona per un divertimento per un relax vabbè ci saluti tua mamma ok grazie mille tuo zio anche va bene davvero come diceva Franco giustamente pianopoli è una città molto delicata molto è il fiore all'occhiello di La Mesa Terme grazie ok grazie grazie fai vedere le sue amiche grazie grazie e come diceva Franco prima Franco tu stavi dicendo prima va bene parliamo di un'altra cosa arrivederci arrivederci ragazzi no Franco tu prima hai accennato hai aperto un argomento interessantissimo parlato di la Mesa Terme esatto la Mesa Terme è una città di 71 mila abitanti potrebbe dare molto di più dipende dalle persone che ci circondano intorno quelli che governano quelli che stanno governando vorrebbe essere pulita la città il verde l'aiuole gli alberi gli fiumi dovete sapere che dove abita Franco io abito a un quartiere che si chiama Razionale Palazzini Popolari abito da 55 anni di quando abbiamo abitato abitiamo da 55 anni e nessuno tutti ci hanno abbandonato ci stanno prendendo scusami ci stanno prendendo in giro allora ci stanno prendendo in giro vi spiego perché quando c'è una relazione ogni 4 anni ogni 2 anni vengono promettono e non fa nessuno niente io non lo so che dobbiamo fare io non lo so cosa dobbiamo fare e stai zitto un po' dobbiamo fare abbiamo 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 dei problemi della fogna da 55 anni questo è vero c'è pieno di fondo l'asfalto è da 55 a tutto nessuno quando mi accompagnano gli amici miei a casa mi lasciano in mezzo la strada perché non si può percorrere perché non si può percorrere con la macchina gli amici miei spacchiano ammortizzatori i giunti i braccietti i motori tutto quindi sappiamo che uno scaricabarile Catanzaro uno scaricabarile tra l'Aterp e Catanzaro mia mamma e mia mamma tutti gli italiani paghiamo le tasse paghiamo io vivo nel territorio lametino datevi una mostra una regolata vedete cosa dovete fare grande Franco grande è stato un grande bravissimo sì è vero è vero c'ha abitato Puduino è vero è vero è vero dopo ti dico tutto non ti preoccupare bene noi adesso scendiamo perché andiamo sì dopo vengo e vi faccio sapere tutto allora stavamo dicendo che adesso cerchiamo di farvi vedere anche quello che sta accadendo nella nostra città guardate Peppe è il più grande giornalaio della città di La Messia Terme solo cose belle da lui nient'altro dal posto qui del nostro amico Giovanni che si chiama mannaia così io la chiamo mannaia però la chiamo il piacere il sapore delle carri anche lui si è buttato nel mondo dell'imprenditoria ragazzi datevi da fare signora scusi me lo porti un volentino dal genere perché vogliamo ah no ce l'ha lei ce l'ha lei ecco guardate mannaia d'oro da Giovanni venitelo a trovare dillo Giulia venite invita la gente dai no invita tu la gente venite avete visto i ragazzini sono una volta più spumeggiati bene in bocca al lupo al nostro amico Giovanni naturalmente a tutta la sua famiglia ancora una volta noi siamo per i giovani vogliamo che i giovani portano avanti questa nostra città grazie naturalmente andiamo avanti con la nostra trasmissione come dico sempre andiamo signori e signori naturalmente come vi dicevo prima adesso siamo scesi in qualche corso numistrano di la mezza terma siamo nel chiosco San Domenico insomma la conoscete tutti perché poi insomma raccoglie e racchiude tutti gli eventi possibili quelli più importanti che riguardano la nostra regione la nostra città vedete fondo per l'ambiente italiano parliamo di FAI è un come tutti quanti ben sapete che si occupa appunto arte natura insomma per tutti quelli che vogliono aderire c'è davvero un percorso lunghissimo ma si può parlare di tanto ma di tutto ma chi meglio della signora Samara la delegata provinciale di Catanzaro delegata provinciale di Catanzaro chi meglio di lei ci può spiegare oggi da oggi o meglio cosa accade qua e nei vari posti d'Italia perché non parliamo solo della Calabria della Messia ma parliamo del territorio nazionale allora intanto buongiorno buongiorno e oggi è una data importante perché la trentesima edizione delle giornate di primavera quindi in tutta Italia ci sono dei luoghi aperti tantissimi perché le delegazioni sono molte e come ogni anno si prosegue questa campagna diciamo di raccolta fondi ma soprattutto di conoscenza del territorio io la interrompo un attimo proprio per i nostri ascoltatori coloro che ci stanno guardando in questo momento qualcuno si chiederà FAI molti non sanno cos'è vogliamo intanto far capire di cosa stiamo parlando male male non sapere cos'è allora il FAI il Fondo Ambiente Italiano è una fondazione onlus che ha come si impegna a difendere recuperare e aprire poi al pubblico dei luoghi che diciamo sono perso che abbandonati il fine principale è la tutela del patrimonio artistico culturale e ambientale italiano in effetti il FAI in tantissimi anni di attività è riuscito a recuperare tantissimi luoghi da castelli abitazioni boschi giardini ma anche piccole cose purché abbiano un legame con il nostro patrimonio artistico e culturale ecco perché le giornate di primavera proprio per far conoscere non il FAI ma per far conoscere i luoghi che molte volte a noi sono sconosciuti ma soprattutto per far riflettere su questa situazione mi piace anche dire che il FAI ha voluto queste giornate anche in questo periodo perché è un periodo abbastanza triste per tutti ma proprio perché siamo vicini sicuramente all'Ucraina infatti ognuno di noi ricorderà l'Ucraina la guerra ma anche perché proprio in un momento in cui l'inciviltà prevale sulla civiltà o la violenza sulla pace è necessario riscoprire i nostri luoghi i nostri posti di trovare noi stessi e quindi sapere chi siamo e che cosa vogliamo certamente quindi è stata dettagliata è stata molto semplice e trasparente in tutto però quello che noi vi diciamo naturalmente in modo nostro per farvi capire ancora maggiormente di cosa parliamo ecco se avete un giardino se avete una tenuta se avete un posto verde naturalmente parliamo solo di natura loro fanno questo praticamente è come non è proprio così però bene o male quello che voglio far capire è che il posto viene messo in evidenza in modo diverso da quello che è alle origini perché molte persone abbandonano questi posti invece ci pensate voi per farlo diventare qualcuno o qualcosa sì diciamo non è proprio perfettamente così è chiaro che un bene deve essere donato al FAI o dato in concessione al FAI il quale con i fondi che recupera proprio dalla raccolta fondi dalle iscrizioni ristruttura sono ristrutturazioni importantissime e poi rende questo bene fruibile per il pubblico è chiaro che il bene deve essere pubblico per essere esofruibile al pubblico il territorio quante quanti diciamo posti se possiamo usare questo termine che voi curate ci sono nel territorio nazionale nel territorio nazionale sono tantissimi chiaramente sono più diciamo più numerosi in Lombardia dove abbiamo cominciato prima ma dovunque ci sono dei luoghi dei beni FAI in Calabria ne abbiamo uno solo per il momento e sono i giganti di Fallistro questo posto questo bosco molto bello che è stato dato in concessione a FAI per la valorizzazione del luogo in più lì vicino c'è una casa di campagna delle contesse molle che è stata donata al FAI che il FAI didattiche proprio per raccontare la storia di Fallistro della Calabria perché la cifra è proprio questa recuperare dei luoghi e raccontare la storia e recuperare la storia di questi luoghi luoghi e posti dalle nostre parti ce ne sono davvero tanti questo bisogna anche dirlo qui da che punto siamo dove possono venirvi a trovare solo a San Domenico oggi oppure ci sono altre giornate ci vuole spiegare anche questo? le giornate di primavera sono nazionali e sono sempre praticamente il sabato e la domenica successivi alla primavera al 21 però noi siamo una delegazione quindi abbiamo un indirizzo email abbiamo una pagina facebook e facciamo anche tante attività di promozione sempre del territorio o visite guidate e facciamo anche dei piccoli restauri li abbiamo fatti ogni delegazione ha la sua attività quindi ci si trova facilmente oggi proprio le giornate di primavera noi le abbiamo dedicate come delegazione di Catanzaro alla Mezzia ed è un'offerta molto ricca perché abbiamo tre percorsi uno è il trekking urbano cioè la conoscenza proprio della città ma soprattutto della parte vecchia della parte antica della città infatti si sale fin sopra al castello ogni chiesa è aperta la chiesa di Santa Lucia fa l'esposizione dei lenzuoli che si decolano ogni anno ogni parco è aperto e dovunque ci sono gli apprendisti ciceroni che sono appunto degli studenti che spiegano questi luoghi perché l'altra caratteristica delle giornate di primavera è utilizzare gli apprendisti ciceroni che significa dei ragazzi studenti più grande gli studenti di tutta la provincia di La Mezzia soprattutto ne faranno da guide perché questo per noi è importante perché significa che questi ragazzi studieranno il loro territorio conosceranno il loro territorio e cominceranno ad amarlo e quindi oltre che a farlo amare e quindi lo difenderanno nel tempo per noi è fondamentale questa quindi abbiamo questo percorso urbano il trekking urbano poi abbiamo un altro percorso quello esclusivamente domani mattina che è un percorso naturalistico trekking naturalistico con la guida di Francesco Bevilacqua che parterà da sotto il castello dalla Fontana Riole e percorrerà il torrente Canne e tutte le gole del fiume Canne soffermandosi al mulino delle Fate e poi abbiamo un percorso per i soli scritti FAI che è sabato pomeriggio e domenica pomeriggio in cui si visiteranno le antiche carce di Lamezza il monastero il convento di San Francesco che non è aperto al pubblico dall'Ottocento da quando questo monastero è diventato carcere e quindi è per la prima volta aperto al pubblico è un convento francescano e poi l'episcopio l'episcopio però solo oggi e le botteghe e gli atelier dei maggiori artisti locali Carnevale Puglia il Pitti e teatro perché riservato ai soli scritti perché innanzitutto siamo ancora in periodo di Covid quindi il percorso è contingentato per cui entrano gruppi di poche persone per cui dobbiamo per forza diciamo avere un criterio e poi anche per in un certo senso avere un riguardo per coloro i quali si iscrivono e quindi sostengono quella che è la nostra fondazione non solo la trasparenza ma la naturalezza che abbiamo ascoltato grazie alle sue parole quindi in bocca al lupo a questo punto se vuole c'è l'assessore l'assessore dove è l'assessore è una delle artefiche diciamo di questa iniziativa noi ci siamo molto appoggiati al comune di Lamezia d'altronde non si fa niente se non c'è l'appoggio del comune e la dottoressa Gargano tra l'altro è molto legata al FAI da sempre e quindi adesso parliamo grazie ancora una volta grazie quindi parliamo con l'assessore quindi a questo punto naturalmente la domanda buongiorno buongiorno assessore da quanto tempo per la seconda volta da qualche mese da cinque mesi ovvio naturalmente quindi parliamo di FAI fondo per l'ambiente italiano il presidente se posso usare questo termine ci ha spiegato tutto però noi naturalmente da parte delle istituzioni da parte del comune il contributo qual è non intendo economico verbalmente parlato ma è stata un'attività che abbiamo programmato in maniera coordinata da dicembre cioè il FAI senza il comune il comune senza il FAI non avrebbero potuto organizzare un'attività di questa ampiezza le giornate di primavera sono un evento di rilevanza nazionale quindi che permette alle città e ai luoghi di avere una vetrina straordinaria normalmente ci si limita all'apertura di uno due tre monumenti invece con la delegazione del FAI di Catanzaro con Gloria Samà noi abbiamo pensato di aprire un quartiere intero della città per cui c'è tutto il rione diciamo nord della città Sant'Eodoro Santa Lucia dove tutti i palazzi tutte le antiche chiese i parchi sono presidiati dagli apprendisti ciceroni quindi è chiaro che è un lavoro che si deve fare necessariamente insieme perché funzioni ma questi apprendisti sono stati preparati prima o è la loro naturalezza che li porta in giro alla scoperta dei nostri posti e luoghi no il valore aggiunto di lavorare con il FAI è questo i ragazzi stanno studiando da dicembre cioè è già a dicembre che noi abbiamo deciso quali erano gli itinerari e l'abbiamo fatto un po' diciamo come un appuntamento al buio perché a dicembre non sapevamo neanche se saremmo stati aperti in che situazione saremmo stati di lockdown possibile quindi ragazzi ognuno ogni scuola ha adottato uno un monumento e i ragazzi volontariamente volontari hanno cominciato a studiarlo per cui c'è una ricaduta educativa di appartenenza ai luoghi tra l'altro voglio sottolineare che non ci sono soltanto i ragazzi delle scuole Lamettine tra l'altro le scuole di Lamettine hanno aderito tutte gli istituti comprensivi delle scuole superiori ognuno con la loro caratteristica ma abbiamo tante scuole del territorio di Catanzaro di Borgia per cui la gratitudine per questi ragazzi è il primo il principale sentimento perché sono loro che fanno le giornate di primavera sono loro il cuore certo ma il traguardo del FAI quale potrebbe essere cioè portare il territorio nazionale alla scoperta di questi splendidi luoghi perché poi magari non bonificati fanno un'impressione diversa poi invece nel momento in cui diciamo prendiamo l'esempio del posto diciamo a piedi chiusa è cambiato tutto la Mezzia è una città bellissima con due centri storici piena di angoli di scorci di monumenti straordinari attraverso i quali è passata la grande storia italiana ma quasi nessuno la conosce quindi il FAI ha fatto questa scommessa sì la grande scommessa è portare le persone alla scoperta dell'anima della città e questo devo dire che già stamattina ora è mezzogiorno già è un obiettivo che già è stato raggiunto abbiamo avuto non so se 4-500 ragazzi e le scuole diffusi in tutte le città in tutta la città è bellissimo vedere queste carovane di studenti che tra l'altro diciamo ascoltano i loro coetanei che gli raccontano le storie l'avete visto per cui l'idea del FAI era questa cioè portare mettere in luce aspetti convenzionalmente che normalmente non vengono attribuiti alla mezzia tra l'altro tutto questa è una ricaduta economica sulla città questo dall'assessore è un'altra cosa che va tenuta presente la politica deve creare movimento sui territori perché la ricaduta è poi per tutti è una ricaduta di educazione è una ricaduta di benessere di felicità perché oggi è una giornata felice però c'è anche una ricaduta economica che è importante poi tra l'altro questo aspetto eh certo è fondamentale certo vabbè il sindaco ovviamente è d'accordo il sindaco sarà qui domani e farà tutti quanti i percorsi sia quelli diciamo interni all'episcopio e alle antiche carceri sia tutto il trekking urbano ma lui è famoso molto sportivo per cui farà tutta la camminata io una cosa che mi sento ecco visto che lei è così gentile che mi dà un microfono eh certamente noi siamo qua a posto per fare diamo voce appunto al FAI no? sa qual è stata la caratteristica più importante secondo me di questa collaborazione instaurata tra il comune e il FAI abbiamo messo insieme una serie di istituzioni che di solito non dialogano allora le antiche carceri sono state aperte grazie alla disponibilità del segretariato del ministero della cultura il museo archeologico lametino apre grazie alla disponibilità della direzione regionale calabria dei musei il museo diocesano e l'episcopio aprono grazie alla disponibilità del museo diocesano di arte sacra e naturalmente del nostro vescovo che ha abbracciato l'iniziativa subito cioè lui ci sta prendo la sua casa l'episcopio è la casa privata del vescovo dopo di che le scuole ognuna è un mondo e ognuna un'istituzione e le associazioni locali voglio citare anche soltanto l'associazione Santa Lucia quella che fa diciamo che afferisce intorno alla parrocchia di Santa Lucia che ha messo in mostra le opere d'arte che per 40 anni in quella parrocchia sono state prodotte grandi lenzuoli dipinti che sono esposti alla chiedichiusa che oggi possono andare certo tutti fino a domani saranno esposti e questo è un pezzo di storia nazionale non locale e infine mi permetta di ringraziare gli artisti perché anche gli artisti le cui botteghe ricadono in questo territorio sono stati coinvolti quindi abbiamo Ale Farte che farà un laboratorio di ceramica quindi Tonino Puglia Maurizio Carnevali farà sì il laboratorio un laboratorio di calcografia di stamperia e il TIP Teatro spazio meraviglioso della città che ha anche una biblioteca al proprio interno proietterà una performance di danza dentro il TIP Teatro ah addirittura ora se lei non lo conosce la porto è qui vicino ecco dopo questi due lunghissimi anni di grande sofferenza sofferenza davvero è che noi non vogliamo riavere mai più grazie ancora grazie a voi grazie buon lavoro e buona permanenza grazie grazie a noi adesso grazie a tutti noi adesso andiamo avanti andiamo adesso vediamo se riusciamo poi a trovare queste ragazze e ragazzi che fanno da guida per così motivare le persone andare appunto a vedere allora fai vedere le date Cristiano fai vedere il 26 e 27 marzo se ci state ascoltando e guardando in replica è già stato quindi ve lo siete persi va bene quindi noi a questo punto poi parliamo anche vediamo se troviamo qualche ragazzo ragazza qualche studente che poi insomma ci fa capire come si stanno organizzando come dico sempre andiamo stiamo facendo una pausa caffè nel mio bar preferito ciao Sandro buongiorno buongiorno questo è il mio bar preferito Sandrino ha un unico difetto il tifoso del Milan sempre Milanista sempre dove è andata la signora Michele dove è andata Mike dove è andata la signora non è uscita non è uscita perché si è nascosta noi volevamo far vedere le bellezze la vetina però purtroppo si è andata ecco si è rinascosta nuovamente va bene c'è Francesco ma Ciccio è una bellezza diversa quella che stavo facendo va bene quindi un pronostico per la partita io ho già la classifica finale se vuoi Milan Juventus Napoli Intel mi fa bene questo va bene guardate da quella parte che c'è anche a questo punto noi usciamo da questa pausa torniamo nuovamente a parlare di Fai ci stiamo occupando di questo adesso andiamo nel centro storico di La Mezzia Terme e poi insomma vi faremo vedere una cosa davvero particolare andiamo amici di noi siamo i giovani eccoci qua siamo adesso alle spalle diciamo così o meglio io ho alle spalle la cattedrale di La Mezzia Terme la chiesa madre della nostra città i ragazzi sono nel museo credo della città di La Mezzia Terme nel museo cattedrale 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 quindi precisiamo questa cosa sono questi ragazzi come ha spiegato prima il presidente loro fanno da guida le persone che vogliono conoscere questi posti davvero particolari nascosti alla città loro cercano di farli rivivere in tutta la loro naturalezza e bellezza allora cominciamo come ti chiami tu? Vittorio Matteo Vincenzo Bruna Davide allora parliamo con Vincenzo hai detto Vincenzo iniziamo con Vincenzo dove insomma rivolgiamo a lui la domanda intanto il percorso che state creando questa mattina è difficile è stato facile è stato impegnativo cosa stai spiegando coloro che ti stanno chiedendo cosa tu stesso hai notato hai incontrato e ti è così diciamo ti è colpito maggiormente riguardo a tutti questi posti che questa mattina voi state spiegando alle altre persone è di certo impegnativo però è anche ha facilitato dal fatto che è un lavoro di gruppo quindi riusciamo insieme ad aiutarci l'un l'altro loro sono dei studenti ovviamente studenti Lamettini e Catanzarese non sbaglio Lamezzi e Catanzaro che portano in giro appunto diciamo fanno da guida a queste persone che vogliono scoprire appunto questi posti che vengono rianimati per poi insomma far capire che in realtà nella nostra Calabria nella provincia di Catanzaro ci sono davvero dei posti abbandonati a questo punto dove voi insomma oggi fate rivivere vero è vero è vero dobbiamo far capire che comunque certi posti hanno una storia dietro ed è molto importante conoscere questa storia per capire quanto è bella la nostra terra quindi la storia si può anche capire tramite per esempio questa mattina avete scelto la cattedrale per cosa? vabbè diciamo che alcuni posti della nostra città o regione in generale sono un po' lasciati andare quindi comunque è una cattedrale importante che ha una storia dietro e ha subito diverse modificazioni a causa di queste modificazioni possiamo capire anche la storia in generale non solo della cattedrale ma anche della città in generale quindi avete sicuramente già intuito di cosa vi stiamo parlando quindi stanno valorizzando dei posti quindi per far conoscere proprio alle spalle alle origini la storia perché insomma noi questa mattina siamo andati a vedere per esempio il castello dietro c'è una storia è vero che c'è una storia perché alla fine in tutta la nostra regione perché questo è lo scopo del FAI cioè di promuovere tutta la nostra terra come già avete visto nel castello anche noi prima ne abbiamo parlato perché dobbiamo portare avanti tutti questi elementi che abbiamo nella nostra regione nella nostra terra e sicuramente se stiamo tutti insieme è un modo alternativo di fare scuola ci divertiamo e ci piace sicuramente Vittorio vi state preparando da dicembre penso certamente appunto far parte degli apprendisti di Geroni e quindi del FAI in generale richiede una certa preparazione prima di andare quindi a illustrare poi tutte le opere e le strutture che andiamo a promuovere ecco adesso parliamo con Riccardo Trombetta cioè non è Riccardo Trombetta Trombetta di cognome però non è Riccardo di nome allora Riccardo il tuo ruolo oggi il mio ruolo oggi è quello di presentare quella che è la storia dietro che c'è la cupola della cattedrale che è una storia molto carina simpata brevemente questa cupola è stata architettata da uno che non era manco un architetto ma era stata architettata da uno che faceva lo scultore però il caso volle che si ruppe la mano e fu costretto appunto a fare questo inoltre c'è un'altra storia interessante ossia quella dove arrivavano i soldi che hanno portato alla costruzione della cupola inizialmente si pensava che i soldi arrivavano dallo Stato smentita dal Comune smentito ma alla fine si andrò a concludere che i soldi arrivavano da buona parte dallo Stato della Chiesa a seguito dei patti laterali nel 1929 senti noi quello che vogliamo capire da tutti voi non solo da Davide o coloro che sono appoggiati ma per esempio tu da grande associ questo al tuo futuro mestiere oppure lo fai perché ti è stato così magari chiesto io non associo questi questi eventi che noi facciamo con la scuola però io penso che sia fondamentale conoscere quello che noi abbiamo nel territorio che molti che vivono in questo territorio non conoscono è importante questo perché magari se lei passa la via eccetera eccetera vede un qualcosa di particolare si chiederà che cos'è no? magari nessuno lo spiega a voi insomma oggi il vostro compito è proprio questo sì diciamo che essendo pure giovani parte da noi la conoscenza di posti che sono stati arretrati quindi partendo da noi giovani possiamo sviluppare le conoscenze anche tramandarle magari prima questo non si faceva nel modo giusto e questo comporta il fatto che noi magari non conoscessimo questa cattedrale Vincenzo ti è colpito qualcosa hai scoperto qualcosa hai ritrovato qualcosa che non avevi mai visto o mai pensato io sinceramente questa H3 non mi ero mai soffermato a scoprire le sue origini adesso mi sono veramente immerso all'interno e ho capito quante meraviglie che non si conoscono ci sono sempre da scoprire cosa vorresti magari dire ai ragazzi che ci stanno guardando in televisione cioè consigli tutto questo sì è logico che non si ad esempio io vengo da Catanzaro come tutti i miei compagni non avrei mai visto e mai neanche notato quello che è il corso di Lamezia quindi è un bel posto ci siamo divertiti quindi ragazzi se voi avete la possibilità fatelo perché è bello è divertente è un modo di fare scuola seguite questi consigli perché loro sono nel cuore di questa mattinata il cuore del FAI stanno collaborando con il FAI ve lo ricordiamo è a carattere nazionale certamente certamente non siamo solo noi della Regione Calabria a partecipare a questo progetto in tutta Italia comunque è promosso appunto per far conoscere le strutture quindi la grande quantità di arte che possediamo nei nostri territori ecco una domanda che io non vi ho fatto e magari voi vorreste dire vorremmo ringraziare principalmente magari la scuola e nello specifico la professoressa Francesca Ferraro che ci ha permesso non solo oggi ma anche nei mesi precedenti di conoscere posti appunto che non conoscevamo e quindi diciamo che ha promosso la nostra la nostra conoscenza e non la ringraziamo proprio per questo motivo a coloro che non hanno voglia di studiare tu cosa vorresti dire? voglio dire innanzitutto studiate che è importante ma soprattutto fatelo non solo per il vostro futuro ma fatelo anche divertendovi perché ci sono tanti modi per studiare anche le materie noiose come le matematiche e la storia l'ho detto in modo simpatico però ho detto la verità le materie noiose però come vedete sono dei ragazzi ovviamente hanno fatto la parte seria della trasmissione perché in questo momento si stanno occupando di cose serie ma ovviamente hanno lo spirito giovane quindi noi ci rivolgiamo anche in modo giovanile allora bene se per stasera che fare? come? stasera domani sera che fare? beh io penso che usciremo insieme stasera sicuramente sicuramente ci divertiamo e valorizziamo tutto questo posto quindi birrerie ci andate? si ci andiamo ci andiamo ci andiamo 18 anni per la dire non ce l'abbiamo ancora ancora 18 anni non ce l'abbiamo che c'è tanzaro tutto bene? si tutto bene facciamo questa eh si si dai ormai ormai sempre si spera speriamo che almeno abbiamo anche il cattanzaro in serie B dovremmo andare quindi a questo punto speriamo perché insomma ai tempi di palanca che non vediamo una gran bella partita va bene grazie a questi ragazzi forza cattanzaro viva la Calabria forza cattanzaro viva la Calabria a questo punto ringraziamo questi splendidi ragazzi noi vi facciamo vedere altro adesso cerchiamo di entrare nella cattedrale come dico sempre andiamo amici noi siamo i giorni come dicevo stiamo entrando adesso nella cattedrale della città di La Mezza Eterme il fiore all'occhiello perché c'è un corso come vedete bellissimo e quindi all'inizio del corso abbiamo la cattedrale dove i ragazzi questa mattina sono entrati per spiegare coloro che magari non lo sanno la storia anche della cupola e della stessa cattedrale come ti chiami Leonardo Leonardo quanti anni hai? 13 Giovanni Sofia Simone Sofia Diletta Martina Giada Letizia Alice Salvatore Azzurra 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 che c'è ammi le barche bellissimo questo nome mi piace tantissimo e quindi a questo punto insieme ad Azzurra e i suoi amici naturalmente andiamo a parlare di quello che loro questa mattina si stanno occupando quindi voi fate da guida vero? Sì Vuoi parlare? Ok Allora la cattedrale con i busti che è stata fondata dal Perrone dal Vescovo Perrone è stata poi portata a termine da Valensise sul finire del Novecento esso costruì dei busti dei papi di Innocenzo IX e Marcello II che si possono trovare sopra la cattedrale a fianco all'edicola dove si trova lo stemma del Vescovo Giambro Eh ma tu sei tutta ti sei preparato tu sai continuare quello che lui sta dicendo quindi la cattedrale fu portata a termine dal Vescovo Giambro che egli infatti nel 1925 fece rifare interamente la facciata eliminò il rosone che era stato commissionato da Valensise e nel 1959 trasformò la scalinata a ventaglio in una scalinata a doppia rampa che è quella attuale Hai capito questi ragazzi come sono preparati non solo conoscono le caratteristiche tecniche della cattedrale ma soprattutto la storia hai trovato difficoltà No no allora spiego Sì quello che vuoi Ok Sì fino agli inizi del XIX secolo come dicevano i miei compagni la cattedrale non furono attuate numerose modifiche se non nonostante il terremoto devastante del 1873 poi il Vescovo Nicola Berlingeri decise di prima rifare il tetto poi rifare costruire quattro altari rifare la sacrestia e la sala capitolare successivamente il Vescovo Giacinto Barbieri ultimò la costruzione del Campaline nel 1872 e in seguito Domenico Valenzise innanzitutto rifece la facciata esteriore dopo commissionò due busti di due Vescovi prima di Nicastro e dopo divenuti papi cioè Marcello II Marcello Cervini Vescovo dal 1539 fino al 1540 e inoltre Innocenzo IX Vescovo dal 1560 al 1562 a tutto lo stile di una prof questa signorina che abbiamo appena sentito davvero particolare gambe molto preparate tu sai in che anno è nata la cattedrale di Ramezia allora sì prima della cattedrale esistono tre tipi diversi cattedrali infatti la prima fu fondata nel primo secolo poi quindi con la successione di susseguirsi quindi delle varie dominazioni sia da parte dei normanni che dei saraceni si arriva poi alla cattedrale attuale infatti nel 1638 con il grande terremoto che distrusce la cattedrale e questa verrà fondata in un altro sito ed è proprio qua che il Vescovo antico Monsignor Tommaso Perrone darà origine a quella che è l'attuale cattedrale infatti stanzierà numerosi fondi quasi 20.000 ducati dell'epoca per costruire questa cattedrale e anche in quest'ultima nella sua inaugurazione parteciperanno l'intera popolazione anche quindi tra i nobili e i principi di Nicastro inoltre pure la sua consacrazione verrà consacrata ai Santi Pietro e Paolo e avverrà quindi il primo settembre del 1675 io ve lo dico che la preparazione è semplice basta aprire un libro conoscere e imparare la storia di ogni città di ogni diciamo simbolo della città perché poi è il simbolo che distingue la città tu cosa hai dovuto spiegare e cosa hai dovuto studiare ho dovuto spiegare diciamo quella che è la successione delle tre cattedrali precedenti a quella attuale infatti la cattedrale originaria risale al primo secolo anno della nascita della diocesi voluta proprio da Santo Stefano Vescovo di Reggio questa cattedrale andò distrutta nel 316 con un terremoto venne ricostruita e consacrata in presenza dell'imperatore Costantino e del papa Silvestro successivamente non si sa bene dove fosse stanziata la prima cattedrale ma si sa per certo che venne distrutta nell'829 dai saraceni e non venne più ricostruita fin quando la Calabria passò dalle mani di bizantini ortodossi alle mani dei normanni che erano cattolici e di Castro fu confermata sede diocesana la costruzione della nuova cattedrale venne affidata a una contessa normanna cioè Eremburga per volere di Papa Urbano II Eremburga costruì questa cattedrale secondo il rito latino e secondo le tradizioni locali poi essa morì nel 1100 e fu seppellita nella cattedrale non ancora ultimata questo è certificato da alcuni documenti andati distrutti insieme alla vecchia chiesa i lavori si conclusero nel 1121 bravissima quindi è stata davvero dettagliata molto esplicita in quello che noi volevamo sapere ma quando fai da guida ecco se possiamo dire così e tu trovi diciamo i tuoi coetane interessati oppure magari è un po' difficoltoso allora è soggettivo ovviamente se una persona è interessata a ciò che sto dicendo ascolta ascolta oggi ho trovato le persone molto interessate e che tu hai spiegato a loro cosa? allora io ho spiegato a loro perché appunto la cattedrale fu intitolata così infatti ricordiamo che forse per appunto dimostrare la fedeltà dei normanni alla chiesa di Roma questa cattedrale fu dedicata proprio ai titolari della chiesa di Roma quindi ai santi Pietro e Paolo e inoltre ricordiamo anche che nei secoli successivi questa cattedrale a causa di eventi naturali disastrosi ma anche a causa dell'assenza dei vescovi della cattedrale va via via degradandosi e assurerò anche l'abbandono l'unica erezione del quale noi siamo consapevoli è da parte del Monsignor Tebaganis il quale appunto ritrova un quadro il quadro di Tintoretto che però viene distrutto con il sisma del 1638 il quale porta molti disastri all'interno della cattedrale che viene quindi ricostruita in un altro sito ragazzi questi qua potrebbero naturalmente diventare poi un futuro insegnante anche perché lo si vede il buongiorno si vede dal mattino ma come ho detto al gruppo di prima io naturalmente devo anche alleggerire a loro le domande intanto chiedo di dove siete è di Borgio sì di Borgio quindi è una scuola media di Borgio è vero che si chiama? Sabatini Sabatini una scuola media Sabatini di Borgio che oggi è qua alla Mezzia per appunto con diciamo collaborare con il FAI tu sai che cos'è il FAI? sì è il Fondo Ambiente Italiano e diciamo è una giornata due giornate il 26 e il 27 marzo quest'anno nel quale appunto si spiegano quelli che sono le opere italiane che molto spesso sono dimenticate e non si apprezzano abbastanza avete capito di cosa stiamo parlando oggi in che posto ci troviamo e perché la puntata è dedicata a questi ragazzi dove spiegano appunto queste cose che poi alla fine insomma basta un po' così di cultura e capire di cosa siamo parlati vero? sì tu l'hai imparato? sì perché poi sono dei ragazzini che pensano anche al sabato sera di uscire vero? è ovvio certo il telefonino vero? eh sì lo smartphone vero? i giochi online tu li fai? eh sì stasera uscite insomma no? stasera insomma è venerdì è vero il venerdì e il sabato i ragazzi escono la squadra di calcio del cuore ce l'hai? Juventus e tu? Inter Inter Juve io no Juve giustamente lui no dice perché tu no? nemmeno Catanzani no io niente calcio zero ma davvero? no no il sport non gliela frega di niente è vero Formula 1 no io niente è giusto così quindi è giusto che dopo domande impegnative li facciamo anche rilassare con una domanda tranquilla di vita normale comunque e quindi tutti promossi questa speriamo penso che si si spera si si speriamo però a lei una domanda la voglio fare tu da grande che vuoi fare? io voglio fare l'oncologa pediatrica si vede capito lo si vede anche dal modo in cui si esprime tu? dei sani di interni io vorrei lavorare in medicina ecco qua insomma abbiamo tutta diciamo sicuramente staremo bene con loro tra questo che stiamo sentendo tu invece da grande vorresti fare? io ancora non lo so però comunque mi piace l'ambito matematico l'ambito matematico perché due per due fa quattro non ci piove è vero quindi andiamo sul sicuro vabbè tu invece da grande io sono nel dubbio totale proprio per il momento non so nulla anche perché l'età te lo consente tu invece? io non lo so neanche andando vedendo andando vedendo bene grazie a questi ragazzi adesso parliamo un attimino con la prof e poi entriamo in quello che è la cattedrale della città di Namedzanema grazie ragazzi grazie grazie come dico sempre andiamo amici di noi siamo i giovani naturalmente come dicevamo prima come stiamo sentendo i ragazzi della scuola media noi adesso andiamo a parlare chi ovviamente ci può dare maggiori informazioni anche perché i ragazzi dettagliatamente sono stati in gamba e quindi non vogliamo sapere chissà quanto e chissà cosa ci troviamo naturalmente sulla gradinata della cattedrale di Nicastro guardate lo spettacolo di Corso Lumistrano anche se oggi è aperto al traffico quindi ci sono queste bruttissime auto io considero nel centro storico le auto nel centro storico una cosa brutta un pugno nell'occhio una cosa che non mi piace assolutamente però ecco la bellezza del corso comunque lo si vede siamo a Nicastro Corso Lumistrano parliamo di FAI Fondo per l'Ambiente Italiano molte persone professoressa buongiorno buongiorno a lei noi parliamo con la professoressa Durzo che insegna lettere all'istituto all'istituto comprensivo Sabatini di Borgia quindi professoressa noi questa mattina con la nostra trasmissione dove si occupa solo esclusivamente del mondo giovanile scopriamo appunto i talenti per poi un futuro dove saranno loro a guidarci oggi lei sta guidando loro magari domani loro guideranno noi perché insomma quando si è grandi poi si ritorna a bambini abbiamo bisogno anche noi di una guida però parlando con almeno due tre ragazzi e ragazze mi sono accorto che comunque il buongiorno si vede dal mattino ed è stato un bel buongiorno bisogna dirlo queste cose le cose belle bisogna dirle noi a questo punto da professoressa cosa chiediamo Fai Fondo per l'ambiente italiano in due parole professoressa vogliamo spiegare di cosa di cosa si tratta allora le giornate di primavera noi le seguiamo da diversi anni il Fondo il Fai il Fondo per l'ambiente italiano ci ha dato la possibilità di vedere delle strutture che non conoscevamo di conoscere delle realtà magnifiche della Calabria che non che spesso sono chiuse al pubblico perché infatti la bellezza delle giornate Fai risiede proprio in questo nel fatto che delle strutture normalmente chiuse vengano aperte e abbiamo partecipato alle giornate di primavera di Badolato di Maida di Curinga ci siamo spostati sul territorio i ragazzi hanno sempre dimostrato grandissimo interesse e soprattutto adesso con l'introduzione dell'educazione civica nuovamente come materia che deve essere trasversale esatto il patrimonio artistico è uno della valorizzazione del patrimonio artistico il decalogo del Fai noi ce lo ritroviamo nei libri di testo di educazione civica che prevede poi a fine percorso dei compiti di realtà proprio sul posto quindi quale miglior compito di realtà delle giornate Fai di primavera e d'autunno non c'è diciamo percorso migliore della strada per poter imparare poi nella vita perché sulla strada davvero si impara di tutto non solo sui libri ma soprattutto la vita comune ma l'Italia abbiamo detto due minuti e due minuti saranno l'Italia a questo punto visto che il Fai oggi e domani è in tutta Italia bisogna dire che offre tantissimo di questi luoghi posti che forse che forse magari noi non conosciamo assolutamente a me è capitato da spettatrice di poter entrare in luoghi normalmente chiusi a Roma mi è stata data la possibilità per esempio di visitare la Domus Aurea di Nerone nelle giornate della primavera del Fai il Mitreo delle Terme di Caracalla sempre a Roma quindi veramente c'è la possibilità di scoprire l'Italia e cosa che normalmente insomma non c'è data la possibilità di fare e noi non facciamo questo appello a voi che siete magari proprietari che so magari non custodite bene un qualcosa di straordinario alla vista delle persone diamolo al Fai assolutamente magari lo rendiamo vivibile visibile a tutti per questa bella nazione che è l'Italia in tutto e per tutto parliamo di scuole defiance sport e cose varie ma parliamo di territorio l'Italia è uno dei più belli territori d'Europa d'accordo assolutamente abbiamo un patrimonio artistico che va valorizzato va fatto conoscere prima gli italiani che adesso in effetti c'è stato lo stop del covid e forse in questo periodo cogliamo anche un lato positivo di quella che è stata una tragedia in mane molti non sono andati all'estero e magari anche è stata l'occasione per conoscere delle bellezze locali che altrimenti non avrebbero mai conosciuto e soprattutto la Calabria che magari viene un attimino dimenticata però i posti che abbiamo qua tramonti mari acqua eccetera eccetera magari in altre zone d'Italia ed Europa non dico il termine se li sognano perché potrebbe essere antipatico però bisogna dire che magari su qualcosa ci invidino è vero prendiamo le termine ma io penso che dovremmo puntare di più sul nostro patrimonio e sì riqualificarlo e amarlo di più amarlo di più e farlo conoscere meglio indubbiamente certamente perché molti magari è estate agosto vado in Francia vado in Australia vado non è vero l'Italia è bellissima io comunque le faccio i complimenti per il suo battaglione e uso questo termine perché siamo in un periodo strano quindi lo chiamiamo così sono davvero in gamba vedo che sono molto preparati quindi grazie anche a lei grazie a voi e io saluto a nome anche della dirigente la professoressa ah la professoressa Lagani perfetto che ci dà ogni anno la possibilità di partecipare a questa iniziativa grazie mille grazie naturalmente noi adesso come promesso entriamo nella cattedrale ciao ragazzi arrivederci amici noi siamo giovani adesso come dicevo prima siamo all'interno della cattedrale di Nicastro la Mezzia Terme dove i ragazzi delle scuole catanzarese stanno facendo da guida stanno spiegando in realtà la storia di questa fantastica realtà che abbiamo nella nostra città parliamo di la Mezzia Terme chi meglio della signorina Alice Alice si può dare anche dettagli su dei particolari di questa chiesa a questo punto qua parliamo di cosa? della fonte battesimale della Santissima Trinità di Francesca ce la vuoi spiegare? allora sì ok allora questa è la fonte battesimale una scultura in marmo bianco realizzata nel XVIII secolo quindi si parla del 1600 è posta in questa nicchia e in alta e chiusa da questo catino in cui è rappresentata la Santissima Trinità che è l'unica opera di Francesco Colelli ancora rimasta nella cattedrale in seguito al rovino sterremoto del 1638 che ha raso al suolo la cattedrale Francesco Colelli sappiamo che è stato un pittore io questa cosa non la sapevo ti giuro mi fa piacere allora Francesco Colelli sappiamo che è stato un pittore particolarmente attivo alla Mezzia luogo in cui vi è nato e alcune delle sue epere possono trovarsi nei maggiori edifici religiosi di Nicastro e San Biase la sua carriera pittorica risentirà dello stile di Mattia Preti da lui apprezzato in occasione dei suoi vari viaggi a Taverna durante il corso della sua vita e a proposito di Mattia Preti a Malta a Taverna possiamo trovare dei musei interamente dedicati a lui e alle sue opere analizzando l'opera quindi troviamo la Santissima Trinità composta da padre figlio e Spirito Santo quest'ultimo simboleggiato dalla colomba che oltre a appunto rappresentare lo Spirito Santo è il punto di luce principale per l'intero dipinto infatti poi la luce da lì si espande per l'intera opera la forma tondeggiante del dipinto potrebbe stare a significare il globo terrestre e la sfera azzurra che potete trovare tra padre e figlio potrebbe rappresentare l'umanità poeta da Dio perché se osservate bene Dio ci appoggia la mano sopra come per simboleggiare quel senso di protezione che gli nutre per noi ma nell'iconografia tradizionale la Trinità può essere rappresentata anche in altri modi e qui mi aiuta il mio amico Francesco Francesco ciao lui tiene solo il cartellone lui tiene solo il cartellone aiuta l'amico Francesco tenendo il cartellone ma comunque lei è quella che ha spiegato di cosa stiamo parlando di cosa vi abbiamo fatto vedere Trinità che insomma la santissima Trinità che magari insomma uno passando guarda però effettivamente non c'entra dentro per capire di cosa stiamo parlando tu sei stata molto brava eh sì che hai studiato e quindi andiamo a continuare a far capire di cosa stiamo parlando no? sì allora partendo da quella meno recente delle tipologie di rappresentare la Trinità troviamo il voltus trifons dal latino volto triforme è di epoca medievale e presenta appunto questa persona con tre volti appunto per significare il concetto di Trinità solo che avendo richiami al mondo del paganesimo questo tipo di raffigurazione è stata accantonata e quindi non più prodotta chiaramente bisognava trovare un altro tipo di modo cioè un altro modo per rappresentare la Trinità e quindi si passa a quella che tutti noi conosciamo ovvero padre figlio e spirito santo sempre rappresentato dalla colomba chiaramente poi c'è stato un altro tipo di evoluzione e si arriva ad opere come quelle di Francesco Colelli che oltre ad avere la classica Trinità che conosciamo tutti ha anche la sfera azzurra e la forma tondeggente del dipinto è un'aggiunta un po' reggente diciamo per dare un tocco in più a quella che era la classica Trinità certamente come ha spiegato prima facendovi vedere proprio l'originale all'interno della cattedrale di la mezza eterna quindi grazie signorina prego grazie a lei tu ti sei stancato? no no tu invece? io sono qua per sostegno morale sostegno morale che ci vuole insomma tantissimo bene facciamoci adesso grazie ancora una volta ragazzi buon lavoro anche a lei grazie grazie buon lavoro adesso Cristi facciamo vedere la straordinaria cattedrale di la mezza eterna il FAI oggi è qua i ragazzi sono qua per far vedere ovviamente quello che noi con le nostre telecamere stiamo facendo così guardare e vedere in televisione e diciamo il fiore all'occhiello di tutte le chiese perché insomma poi la cattedrale dovete sapere che rappresenta naturalmente la chiesa madre di tutte le chiese dove ci sta il vescovo non sono io qua a spiegare quello che effettivamente qual è la funzione appunto della cattedrale ci sono appunto apposta i ragazzi che sono loro che insomma stanno questa mattina facendo grazie naturalmente alle scuole e a coloro che hanno aderito a tutto questo noi parliamo del FAI voi sapete che cos'è sì certo si è un attimino emozionato perché la telecamera il conduttore la televisione ma noi parliamo con Letizia tu ti chiami Martina rompiamo il ghiaccio tu come ti chiami Giada Salvatore allora voi da dove venite Borgia Borgia San Floro è l'istituto comprensivi sabatini di Borgia quindi vi siete preparati in quello che voi dovete spiegare a coloro che insomma vengono a conoscere a capire la storia della cattedrale della stessa città avete scoperto anche voi dei posti nuovi vero? certo e tu invece il tuo ruolo qual è? spiegare la parte interna quindi la cupola quindi se io ti dovessi dire che cosa sono questi? quindi la cupola perché? perché? no spieghiamo perché? io ti ho chiesto che cos'è questo? perché non siete qua per spiegare il confessionario? no ma effettivamente però se ti chiedo che ci sta dietro dietro l'altare tu sai di cosa stiamo parlando vero? in fondo all'abside possiamo trovare un recentissimo dipinto che raffigura l'assunta ai due santi Pietro e Paolo e vuole rappresentare la continuità tra la vecchia cattedrale quindi quella dedicata all'assunta e quella attuale dedicata ai due santi ve lo dico che sono preparatissime anche perché prima di iniziare un percorso ovviamente loro hanno avuto la giusta preparazione vero? sì quindi a questo punto che cosa hai trovato di particolare? io parlo dell'organo quindi che cosa hai studiato come puoi far capire di cosa stiamo parlando? allora l'organo si trova è posto nella siamo all'entrata no? sì è posto nella cantoria ed è stato realizzato sotto l'episcopato di Monsignor Loiero verso la metà del 1700 è in stile tardo-barocco ed è caratterizzato da una grande cassa di risonanza acustica e squadrata la cantoria è realizzata in legno dorato dove ci sono dei pilastri traforati al centro si trova un grande stemma quello appunto di Monsignor Loiero nel 1940 questo organo funzionava ancora solo che durante la seconda guerra mondiale gli sono state rubate le canne come appunto denunciò Don Francesco Maiolo in una lettera inviata direttamente a Mussolini perciò ne rimase privo a lungo e poi Don Marghella Don Marghella prese dei tubi di plastica e dei pinzi di una vernice argento e li mise nell'intelagio duro ovviamente oggi il meccanismo di quest'organo è stato tolto però rimane sempre una parte più bella importante di questa cattedrale è stata preparatissima è stata bravissima diciamo la verità quindi tu invece lei ha spiegato l'organo lei ha spiegato le spalle cosa abbiamo io invece spiego con il mio compagno i busti San Pietro e San Paolo chi è San Pietro e chi è San Paolo allora San Paolo e San Paolo fantastico sono dei ragazzi tu con te ci abbiamo già parlato eccetera eccetera qui sono dei ragazzi che vengono da Borgia appunto per fare da guida coloro che vogliono conoscere il nostro territorio ma soprattutto la nostra cattedrale c'è un po' freddino qui dentro ma state trovando difficoltà no diciamo che dopo aver già imparato poi diventa allora fino a che ora dovete rimanere qua per quanto tempo ci state fino a domani allora alcuni ragazzi fino all'una mentre quelli delle superiori fino alle 6 insomma dato anche gli orari dove potete venire e vi daranno spiegazioni insomma alla fine di tutto questo percorso non dico se ti è piaciuto vi è piaciuto eccetera però è stato interessante avete imparato qualcosa di diverso avete conosciuto qualcosa che non conoscevate prima sì è stato bello poter spiegare alle altre persone che non erano i soliti professori qui ripetiamo la lezione di storia è stato bello confrontarci con gli altri spiegare le parti di questa bellissima cattedrale perché poi insomma il confronto è anche quello che ti rende un po' partecipe di tutto se ti metti accanto a lei altrimenti vai con le spalle alla telecamera quindi non è molto difficile quello che avete fatto no? no no soprattutto dopo un po' un po' di ripetizione un po' di ripetizione si fa insomma però è importante conoscere la storia di quello che a noi ci circonda vero? sì mi piace insomma sì soprattutto che scuola frequentate avete detto? terza media terza media ragazzi seconda media terza media non è mica semplice insomma puoi imparare la storia del 1800 eccetera eccetera non è solo Garibaldi la spedizione dei mille che so i babilonesi sta roba qua no c'è anche molto altro certo e soprattutto i territori ecco perché è nato il FAI ecco perché esiste il FAI a carattere nazionale in tutta Italia oggi e domani seguitelo in tv seguitelo su internet seguite il FAI perché davvero vi fa conoscere posti che magari non immaginavamo prima invece effettivamente esistono esistono di proprietà e non solo e poi insomma se vengono dati a questa associazione diventano qualcosa di molto buono molto bello appunto da fare vedere e conoscere a tutti grazie ragazzi grazie questi sono dei piccoli professori e professoresse dovete sapere che poi quando saranno grandi diventeranno qualcuno bene a questo punto noi Cristia dobbiamo chiudere la puntata grazie a voi che ci avete seguito fino a qua naturalmente questa è stata una puntata dedicata al FAI nella città di La Mezzia Terme con i ragazzi di Borgia Catanzaro è la stessa La Mezzia Terme sono studenti dalle scuole medie superiori pure sì anche scuole superiori quindi grazie a tutti voi ci potete guardare in televisione RT canale 12 112 di STV e Club TV canale 628 oppure andate sui social ci trovate dappertutto con queste splendide ragazzi io vi saluto vi rinnovo l'appuntamento al prossimo fine settimana grazie a Cristian che cura la tecnica parte di questo appuntamento e la regia grazie ancora una volta alle nostre TV e insomma scoprite i posti più belli d'Italia grazie a questi ragazzi ma soprattutto grazie al FAI alla prossima ciao 1, 2, 3, 4 giovani più giovani siamo l'esercito l'esercito del ZEP